Il Ministero del Lavoro conferma quello che già sapevamo, ovvero che basta lavorare con un voucher a settimana per un'ora per essere considerati occupati. Ce lo spiega il Ministero del Lavoro rispondendoci alla nostra interrogazione in cui chiedevamo spiegazioni sui meccanismi di rilevazione delle statistiche dell'Istat. E il Ministero ci risponde che colui che ha svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario in natura è considerato occupato. Quindi in sostanza un lavoratore che lavora nella settimana della rilevazione con un voucher da 7,5 euro allora è considerato a tutti gli effetti, rientra a tutti gli effetti nella lista degli occupati. Proprio un bel trucchetto escogitato. Quindi se sommiamo il boom dei voucher agli sgravi contributivi che si stanno esorendo, il bluff occupazionale di Renzi è chiaro ed evidente a tutti. Questo governo deve andare a casa.